Gli incassi della Movida Gallipolina nel mirino della Scud 2.0, quella per intenderci della seconda generazione dei clan Padovano e Tornese. Questo e molto altro al centro dell'indagine del ROS culminato nell'operazione Baiaverde. 15 le ordinanze di custodia cautelare messe dalla procura distrettuale antimafia ed eseguite in ottata nel Salento per associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e spaccio di stupefacenti. Tra gli altri in manette è finito il figlio di Salvatore Padovano, Angelo, erede del boss ucciso e i fratelli Parlangeli, organici e anche l'Antornese, uniti per puntare alla gestione dell'attività di security dei Lidi Balneari e nelle discoteche della Costa. L'indagine partì proprio a seguito dell'attentato alla discoteca Praia del 24 luglio 2011, quando fu bruciata l'auto del titolare dell'agenzia di security che fino ad allora aveva gestito il servizio di sicurezza. Poi la sua estromissione dal servizio e l'imposizione dell'agenzia facente capo a Fabio Pellegrino, anche lui arrestato. Complicazioni burocratiche spostarono la scelta del gruppo verso l'agenzia investigativa di Tommasi Luca, facente capo ai Tornese, con l'adesione meccanica e silenziosa alla stessa di molti imprenditori. Tale era il clima di intimidazione diffuso. Ma gli interessi del gruppo erano indirizzati anche alla gestione dei parcheggi, a cui è legato l'episodio di intimidazione nei confronti del sindaco di Gallipoli, che non aveva garantito la concessione dell'aria alla cooperativa Loruscio dell'Umare, rispetto alla quale intervenne poi l'ordinanza interdittiva della prefettura. A ciò si aggiunga l'attività estorsiva, spalmata su tutte le attività imprenditoriali, un'aggressività che segna un salto di qualità della mafia salentina, che punta a infiltrarsi in maniera incisiva nell'economia locale.